Siamo con l'On. Mandelli, la farmacia in questi anni della pandemia ha fatto passi da gigante, si è confermata ancora di più centrale per il Servizio Sanitario Nazionale, ma a questo punto com'è bisogno di concretizzare questi obiettivi raggiunti? Io credo che stiamo muovendoci nella maniera giusta, abbiamo dimostrato di saper fare, siamo stati indispensabili nel momento in cui abbiamo avuto tanti problemi sul territorio, ci siamo resi disponibili in maniera straordinaria a metterci a disposizione per fare anche vaccini, tamponi, cose che normalmente non erano nella nostra attività normale. Ora sta ripartendo la farmacia di servizi con i cronoprogrammi della regione, questo è molto importante, e il progetto della federazione è sempre stato un progetto ambizioso, quello che ho scritto nel 2005 l'orgoglio di dire che l'ho realizzato davvero. E quindi diciamo che non voglio svelare subito un obiettivo futuro, ma abbiamo delle idee, perché questa professione straordinaria che ha ritrovato una grande vitalità sia ancora protagonista della sanità territoriale. Io l'ho sempre detto, la prossimità senza farmacista non si può fare, quindi bisogna ripartire soprattutto da noi.